La Guardia di Finanza di Fasano ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Brindisi di 93.000, volumi scientifici, saggi, collane ed altre opere librarie, del valore commerciale di oltre 1.300.000 euro e appartenenti ad una società editrice dichiarata fallita. Il sequestro è stato disposto dalle fiamme gialle a Fasano in librerie di altre località della Puglia, ma anche in Toscana, Umbria e Campania, in quanto i proprietari avrebbero continuato a vendere i libri pubblicizzandoli attraverso internet. Le opere sequestrate che costituivano gran parte del patrimonio aziendale della società fallita erano state cedute, secondo quanto accertato dagli investigatori, a un prezzo irrisorio e proprio in prossimità del fallimento a una nuova compagine societaria, operante nello stesso settore, con identica sede e riconducibile alla stessa casa editrice fallita. per poi essere vendute al pubblico mediante rivenditori al prezzo di copertina. Sia l'amministratore della casa editrice fallita che quella della nuova società costituita poco prima del fallimento sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Brindisi per i reati di bancarota documentale e patrimoniale aggravata.